Stiamo completando un disegno strategico che sta cambiando il destino della città di Salerno. Sarebbe un delitto interromperlo. Non nasconde il suo sostegno e non poteva essere diversamente al sindaco di Salerno uscente Vincenzo Napoli. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che oggi a Salerno, a pochi giorni di distanza dalla presentazione del progetto relativo all'aeroporto di Salerno, ha illustrato anche l'impegno della regione Campania su due opere destinate a cambiare la viabilità nel comune capoluogo. Trincerone Ovest, Centro Storico e Snudo del Cernicchiara sono l'occasione per il governatore di presentare il programma del completamento del rilancio e la costruzione della città europea. Una nuova identità, ha detto De Luca, per dare lavoro ai giovani, non come qualcun altro che in questa campagna elettorale va dicendo e valorizzando l'uva Sanginella. È uno dei grandi progetti che servono davvero a completare il programma di viabilità e di mobilità della città di Salerno. Finanziamo ancora il completamento del trincerone all'altezza di via Sant'Eremita, cioè la caserma della polizia stradale. Finanziamo la realizzazione di un parcheggio, lì nel cuore del centro storico, e la viabilità per arrivare al vecchio carcere maschile. Dunque veramente è un grande programma di trasformazione urbana. Infine presenteremo nei prossimi giorni anche il rendering, un'immagine compiuta del fronte di mare quando sarà completato. Avete visto che abbiamo già cominciato a realizzare le prime spiagge nella parte orientale della città. E già questo ha cambiato la faccia di Salerno. Avere una spiaggia ai 100 metri significa valorizzare l'economia del mare, creare turismo, creare economia. Vi faremo vedere che cosa è la città quando si completa da qui a due settimane Piazza della Libertà e realizziamo la spiaggia davanti a tutto il lungomare di Salerno, a Piazza della Concordia e fino a Ponte Cagnano. Ecco, il nostro obiettivo è completare questo lavoro. Guai a noi se questo lavoro si interrompe nella città di Salerno. Perdiamo tutto. Presidente, Porto Ovest quindi si è sbloccata la parte, parlo del cantiere su Via Ligea, che attendeva l'intesa con l'autostrada meridionale. Sì, quel problema è stato risolto anche perché era una piccola truffa che volevano farci, farci pagare degli oneri per passare a 70 metri sotto l'Adda. Il nostro problema era quello proprio viabilistico, cioè una volta che il tunnel sbuca sul Cernichiara, che succede? Perché c'è l'interferenza fra il traffico urbano che sale da Via Carmine e i mezzi pesanti che arrivano dal porto. A margine dell'incontro c'è stata anche occasione con il Presidente di soffermarsi sulle nuove norme relative all'obbligo di certificare la vaccinazione con il Green Pass. Parole dure quelle del Presidente De Luca contro lo storico Alessandro Barbero. Sono molto favorevole a queste decisioni del Governo, che come sapete vengono sempre dieci giorni dopo la Regione Campania. Avevamo già deciso dieci giorni fa che il personale, anche non scolastico, che entra nelle scuole, genitori compresi, deve essere vaccinato. Io sono indignato, il sangue agli occhi, per le bestialità che continuano a circolare. E in modo particolare per le idiozie che racconta questo professorino qui, Barbero. È qualcosa di indescrivibile a livello di irresponsabilità. Non ho trovato un solo argomento serio. Il Green Pass tocca la libertà. La libertà di chi? Ma provate a immaginare, se facciamo salire su un treno ad alta percorrenza, uno che non si è vaccinato, e in quello stesso treno c'è un cittadino malato di tumore, che si sta curando il tumore, o malato di leucemia, che rischia di essere condannato a morte, altro che la libertà. Quando decidiamo che è obbligatorio il vaccino alle elementari, negli asili, è perché se un bambino non vaccinato ha a fianco a sé un altro bambino immunodepresso o che ha la leucemia, questo altro bambino che non si può vaccinare rischia di morire. Ci vuole tanto a capire queste cose elementari in un paese civile. Allora, la verità è che siamo di fronte ad una banda di ipocriti, di irresponsabili che confondono la libertà con la irresponsabilità. La libertà dobbiamo tutelarla le donne afghane che vengono massacrate in questo momento, non in un paese come l'Italia in cui ognuno può dire le bestialità che vuole.